Ho letto con stupore di alcuni nomi, addirittura di posizioni di gradimento e di non gradimento da parte del sindaco su proposte di giunta, insomma nulla più lontano dal vero. C'è una discussione che è avviata oramai da tempo di allargamento della giunta anche alla luce delle dimissioni dell'assessore Caputi, ma nulla di quello che ho letto in queste ore corrisponde al vero. C'è una discussione che riguarda anche l'Udc, riguarda in generale gli assetti dell'amministrazione che tendono a rendere il nostro lavoro più efficace e più efficiente ed allargare la squadra, ma addirittura che ci siano tensioni, malumori ed altro, insomma è qualcosa che io escluderei e che non so da dove sia uscito. Dunque però potrebbero esserci nuovi ingressi in giunta, breve, potrebbero esserci novità? Ci saranno novità, credo a questo punto per l'anno nuovo, ci stiamo lavorando, arricchiremo la squadra con persone di alto profilo, discutiamo in queste ore dei profili e poi discuteremo dei nomi. Che non sarà quindi quello che è uscito stamattina? Io non so da dove escano certe notizie, non discuto mai dei nomi, mai delle persone e tendo a costruire profili su cui puoi appiccicare nomi e fotografie. Il lavoro all'incontrare non mi è piaciuto e non mi appartiene.